Un buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di eLive. Quest'oggi apriamo il nostro giornale con un'ampia pagina di cronaca, ma andiamo con ordine partendo da una maxi operazione dei carabinieri di ospitaletto che hanno scoperto e sgominato dopo una lunga indagine un business della prostituzione che nella nostra provincia contava ben tre case chiuse. Un ampio business della prostituzione con case chiuse ospitaletto, l'onato del Garda e Derbusco è stato scoperto e sgominato dai carabinieri dopo una lunga indagine partita lo scorso gennaio. Insospettiti dal continuo via vai di persone nei pressi di un locale commerciale nella zona industriale di ospitaletto, i militari hanno avviato un lavoro di indagine particolarmente articolato, fermatosi solo durante il periodo più duro dell'emergenza sanitaria. Al momento della riapertura le divise hanno constatato che l'attività di prostituzione era normalmente ripresa, scoprendo anche gli altri due appartamenti di Erbusco e di Lonato. Quali gestori responsabili dell'attività? Sono stati individuate tre persone italiane, un uomo e due donne. In particolare sembra che il compito dell'uomo nell'organizzazione fosse quello di trovare i locali più adatti per ospitare gli incontri sessuali, mentre le due donne gestivano i contatti con i clienti e le prostitute, oltre ad occuparsi della pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie sui siti di annunci. Al termine della fase di indagini i locali sono stati sequestrati e i tre sono stati incriminati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Proseguono anche i controlli della questura nella nostra città, proseguono, ritornano in via Valle Camonica e in via Milano. Sono state ritrovate anche negli ultimi giorni due biciclette probabilmente rubate e ora la questura cerca i legittimi proprietari, ovviamente, con regolare denuncia. Proseguono i controlli straordinari sul territorio da parte degli agenti della questura di Brescia e nelle ultime ore si sono nuovamente focalizzati su due aree particolarmente delicate della nostra città, via Milano e via Val Camonica. Il servizio ha previsto l'impiego di diversi equipaggi della questura, fra cui il personale della divisione amministrativa, dell'ufficio immigrazione, della squadra mobile, della polizia scientifica congiuntamente agli agenti del reparto prevenzione crimine Lombardia e al personale della polizia locale. Le verifiche hanno permesso l'identificazione di 55 persone e controlli a 8 autoveicoli. Sono state effettuate verifiche domiciliari di 15 persone sottoposte a misure restrittive e di prevenzione. Sono state inoltre effettuate verifiche amministrative a due esercizi pubblici, che al momento del controllo vedevano la presenza all'interno dei loro locali di 7 persone con precedenti di polizia. Durante i controlli sono anche state individuate e recuperate due biciclette, probabilmente rubate. La questura ha quindi reso pubbliche le foto, in modo da far sì che i legittimi proprietari possano farsi avanti, ovviamente presentando una denuncia o una prova dell'effettivo possesso del mezzo, per riavere ciò che gli era stato sottratto. Controlli non solo in città, non solo nel capoluogo, ma anche in provincia. Infatti si sono concentrati nella giornata di ieri a Desenzano del Garda, nel centro storico e sul lungolago controlli che hanno portato all'arresto di due spacciatori e in merito a questa operazione ha espresso grande soddisfazione anche il sindaco della cittadina gardesana. Proseguono i servizi delle forze dell'ordine nell'ambito del piano città sicura, non solo nel capoluogo, ma anche in provincia. Nelle ultime ore le verifiche si sono concentrate sul centro e sul lungolago di Desenzano del Garda, dove sono state anche arrestate due persone per spaccio. Gli agenti del commissariato locale, infatti, mentre si trovavano in Miamasotti, hanno fermato per un controllo un'automobile. Subito è parso chiaro che qualcosa non andava, a causa dell'agitazione dei due individui sul mezzo. In un pacchetto di sigarette poggiato accanto alla leva del cambio, infatti, le divise hanno trovato nascosto un piccolo involucro contenente oltre un grammo di cocaina. E' quindi scattata la perquisizione, che ha portato alla luce un altro sacchetto con all'interno 50 grammi della medesima sostanza e 2.870 euro in contanti. Durante la successiva perquisizione personale, inoltre, nelle tasche del più giovane nei due, un 27enne di origine marocchina, gli agenti hanno ritrovato altri 8 grammi di hashish. I due, un bresciano 52enne e il marocchino 27enne, sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione e i fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Profondo apprezzamento per l'incessante impegno della Polizia di Stato nei confronti della lotta allo spaccio, è stato il commento espresso durante i servizi di controllo dal sindaco di Desenzano del Garda, Guido Malinverno. La lotta alla droga è una delle azioni prioritarie per garantire sicurezza e legalità. Il problema dello spaccio di droga, che purtroppo è ancora ben radicato anche in città, dove è stato arrestato un cittadino marocchino con una grande quantità di sostanza stupefacente in suo possesso. Pensate che questa persona era già stata espulsa dall'Italia nel 2018. Aveva con sé oltre mezzo chilo di hashish e 23 grammi di cocaina, il tutto già soddiviso in 29 dosi pronte per la vendita. Così è finito nei guai un cittadino di origine marocchina e regolare sul territorio italiano, dal quale era stato espulso nel 2018. L'uomo è stato fermato per un controllo dai carabinieri in città e al momento della consegna dei documenti ha esibito una carta di identità e una patente di guida palesemente false. Il trucco però non ha funzionato e anzi ha aggravato la sua posizione già di per sé complicata dopo il ritrovamento di questa grande quantità di droga nei suoi indumenti e nella sua auto. Inevitabile l'arresto, se si considera anche la recidività. Infatti l'espulsione con accompagnamento alla frontiera di due anni fa era stata emessa già all'epoca per violazioni in merito a reati che riguardavano lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ora apriamo il capitolo del nostro giornale dedicato all'emergenza coronavirus. Lo facciamo andando a vedere i dati comunicati nella serata di ieri da Regione Lombardia sul nostro sito internet www.elivebrescia.tv dove appunto possiamo vedere i contagi comunicati nella serata di ieri che sono stati 12 nella nostra provincia e 118 in Regione Lombardia. Dati che comunque è un dato abbastanza alto in base agli 8.979 tamponi processati che risente ancora in parte quantomeno una piccola parte risente del focolaio un paio di giorni fa avvenuto nel Mantovano, nell'azienda agricola del Mantovano. Purtroppo si registrano ancora alcuni decessi, 5 nella nostra regione, 0. Fortunatamente per quanto riguarda la nostra provincia spicca sicuramente il dato di Mantov appunto come abbiamo detto con un più 22 derivanti ancora dal focolaio ma spicca anche il dato di Bergamo sempre con un più 22. Ora proseguiamo con il nostro giornale sempre in tema coronavirus ma in tema riapertura in particolare pensiamo a settembre, pensiamo al ritorno a scuola adeguandosi alle linee guida del Ministero e del Governo anche Regione Lombardia ha firmato un'ordinanza che consente l'apertura dei nidi e dei servizi per la prima infanzia a partire dal 1 settembre prossimo. Gli asili nidi, i micronidi e più in generale tutti i servizi educativi per la prima infanzia quindi da 0 a 3 anni potranno riaprire attenendosi alle necessarie misure di sicurezza a partire dal prossimo 1 settembre. Ai gestori pubblici o privati verrà comunque data la possibilità di individuare in autonomia tenendo soprattutto in considerazione le necessità delle famiglie la data di riapertura in modo da poter riprendere l'attività in sicurezza per tutti. Il Governatore Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza in cui conferma il 1 settembre come prima data possibile di riapertura per gli asili nidi e i servizi educativi per l'infanzia anche per quanto riguarda la nostra regione. Nella stessa ordinanza viene stabilito il 14 settembre come data di riapertura delle scuole dell'infanzia in ottemperanza a quanto dispone il Governo. Ora nuovamente in città per un altro tema molto importante cioè l'abbandono illegale di rifiuti. Pensate, nello scorso anno, durante il 2019, sono state oltre 2.000 le multe per questo reato cominate ai cittadini bresciani. Il problema dell'abbandono illegale di rifiuti è purtroppo una piaga ancora presente nella nostra città, una delle battaglie che il Comune porta avanti ormai da anni con un grande impegno soprattutto della Polizia Locale. Gli agenti coordinati dal Comandante Roberto Novelli, infatti, solo nello scorso anno hanno notificato 2.215 sanzioni per un valore totale che sfiora i 190.000 euro. 130 le multe effettuate grazie ai fotogrammi catturati dalle fototrappole fisse installate in vari punti della città proprio per beccare questi furbetti. Una parte fondamentale di questo lavoro di prevenzione viene svolta anche in prima persona dagli agenti dell'operazione in abiti civili, così come importanti sono le segnalazioni dei cittadini. Nel 2019 sono stati 247 i servizi in borghese, mentre ben 535 quelli su segnalazione. Per quanto riguarda la prima metà del 2020, le sanzioni sono state 883 per un valore di oltre 100.000 euro. 251 sono state notificate tramite i fotogrammi delle telecamere. In comando ne sono arrivati addirittura 25.993 da esaminare. 162 invece derivano dai servizi in borghese e 667 dalle segnalazioni. Come detto, una lotta che procede incessante da parte degli uomini della polizia locale, anche come detto appunto con l'installazione di fototrappole. Forse c'è anche da sfatare qualche mito per evitare che questo abbandono fuori cassonetto continui ad avvenire e cioè che ad esempio non aumenta la tassa dei rifiuti ogni qualvolta si apre il cassonetto con la tessera, con la chiave. Questi sono alcuni punti che hanno messo in chiaro anche l'assessore Miriam Cominelli e il commissario Natoli. Quest'anno, come l'anno scorso, il comando di polizia locale ha messo in campo una serie di azioni mirate per contrastare gli abbandoni e gli illeciti abbandoni dei rifiuti in tutta la città. Oltre ai servizi che abbiamo messo in campo sia quest'anno, nel 2020 sia nel 2019, noi ci appoggiamo a una serie di videocamere in sede fissa che sono state montate nel corso del tempo in più punti della città che stanno dando i loro risultati. Quindi teniamo conto che queste fotocamere producono al nostro comando una media di 20.000 circa fotogrammi da visionare all'anno, quindi da visionare uno per uno. Ecco, da questo poi partono una serie di accertamenti che riguardano sia gli autoveicoli, con la guida le persone che abbandonano rifiuti, sia le persone che in alcuni casi siamo riusciti anche a identificare. Diciamo che c'è stato un impegno notevole da parte della Polizia Locale per contrastare proprio questo fenomeno. Ricordiamo che Brescia ha raggiunto un risultato importantissimo in termini di percentuale di raccolta differenziata in pochissimi anni, dal 38% siamo passati al 72%, un risultato ottenuto grazie all'impegno dei cittadini bresciani. Ecco perché il fenomeno dell'abbandono è tanto più odioso per chi invece fa correttamente la raccolta differenziata. Il totale è più o meno delle tonnellate di indifferenziato, si aggira intorno alle 2000 per ogni anno. Come dicevo c'è l'impegno costante della Polizia Locale, io ricorderei anche quello che è invece la normale modalità di conferimento dei rifiuti. Innanzitutto non è vero che più volte si usa la tessera per aprire il cassonetto e più si paga di tassa rifiuti, questo non è vero. Ci sono 5 isole ecologiche che possono essere utilizzate per il conferimento ad esempio degli ingombranti oppure dei RAE e poi c'è un servizio di ritiro a domicilio con una gratuità annuale fatto da Aprica che ti permette di chiamare e far arrivare a casa il ritiro dei tuoi ingombranti, sono fino a 4 colli se non ricordo male per ogni ritiro. Quindi anche la buona informazione alla base della lotta a questo grave problema che affligge anche la nostra città. Questi erano solo, erano solo un breve estate di quelle che sono le interviste che abbiamo fatto al commissario Natoli e a Mirian Cominelli, l'assessore all'ambiente del comune di Brescia. Se volete approfondire questo tema, subito dopo la serie di questo telegiornale, restate con noi per il nostro e-focus dedicato appunto all'abbandono illegale di rifiuti e ci sono anche nel focus le immagini molto particolari delle fototrappole che appunto fanno capire quanto ormai sia anche difficile non essere scoperti quando si commettono questo tipo di reati. Ed ora in chiusura di questa nostra pagina dedicata alla nostra città parliamo di una buona notizia per gli abitanti della zona. Infatti con 10 giorni di anticipo rispetto al calendario dei lavori di messa in sicurezza comunicati dal comune, nel primo pomeriggio di oggi riaprirà il cavalcavia di via Serenissima. Nel primo pomeriggio di venerdì 7 agosto, con 10 giorni di anticipo rispetto al piano dei lavori, riaprirà il traffico via Serenissima all'altezza del cavalcaferrovia della linea Milano-Venezia. Fino al momento in cui sarà consegnato il collaudo statico previsto per la prossima settimana, la portata massima del ponte sarà di 20 tonnellate come prima dell'inizio dei lavori. Successivamente la strada non avrà più limitazioni di peso per il transito degli automezzi. L'intervento effettuato, la sistemazione dei pilastri dell'impalcato del ponte, è parte di un importante programma di riparazione degli elementi strutturali del cavalcaferrovia di via Serenissima, iniziato lo scorso 4 maggio. L'opera, realizzata in collaborazione con RFI, si è resa necessaria a seguito di controlli effettuati dall'amministrazione comunale sui manufatti del proprio patrimonio stradale. Apriamo ora la nostra pagina sportiva e il mercato a tenere banco, ovviamente, perché comunque le competizioni, quantomeno per il Brescia Calcio, si sono concluse e avevamo fatto sentire alcuni giorni fa le parole di mister Diego Lopez, che Sibillino parlava in prima persona in ottica della prossima stagione, come se fosse già stato riconfermato. Ebbene, non si sa ancora nulla, non c'è ancora nulla di ufficiale, però sulla panchina del Brescia si allunga l'ombra di Alessio Dionisi, un giovane tecnico, reduce della salvezza con il Venezia. È il mercato a tenere banco in casa Brescia e nonostante il mister Lopez sembri sicuro della riconferma, non mancano le voci su una probabile sostituzione in vista del prossimo campionato. Torna infatti in auge il nome di Alessio Dionisi e pare che al momento le sue quotazioni per un futuro bianco-azzurro stiano crescendo nonostante il contratto in essere fino al 30 giugno 2022. Partito per le vacanze in Uruguay, l'allenatore sudamericano ha finora avuto un solo colloquio con Giorgio Perinetti, ma nessuno con il presidente Massimo Cellino. Reduce dalla salvezza con il Venezia, il nome del giovane tecnico senese è stato nuovamente accostato alle rondinelle, anche se per lui c'è un forte interesse anche da parte dell'Empoli, anche se il Brescia potrebbe vantare comunque un diritto di prelazione. L'ultima parola per il futuro della panchina, insomma, spetta a Massimo Cellino. E con questa notizia di mercato si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che se volete rimanere sempre informati dovete semplicemente connettervi al nostro sito internet www.livebrescia.tv dove tutte le notizie sono in continuo aggiornamento così come sui nostri canali Telegram e Live Brescia News e Live Brescia Sport dove appunto le notizie le potrete ricevere comodamente sul vostro telefono cellulare ovunque vi troviate, anche in spiaggia, anche sotto l'ombrellone nella nostra versione mobile. Vi ricordo anche se volete di passare anche sulla nostra pagina Facebook Live Brescia TV dove anche lì appunto vengono condivise tutte le notizie della nostra redazione. Io vi ricordo che subito dopo la sigla di questo telegiornale c'è il nostro e-focus dedicato all'abbandono dei rifiuti, davvero davvero molto interessante, quindi vi invito a seguirlo, vi invito a restare con noi ancora per qualche minuto almeno. Vi ricordo anche che l'informazione si aggiorna nuovamente qui su e-live, il nostro canale 16197, la Digitale Terrestre, questa sera alle ore 19. Vi auguro una buona giornata e ancora grazie per averci seguito. Assessore, sono ancora molti gli abbandoni, si sta lavorando, avete numeri comunque importanti sull'identificazione di chi abbandona i rifiuti. Che bilancio fate di quest'ultimo periodo? Beh, diciamo che c'è stato un impegno notevole da parte della Polizia Locale per contrastare proprio questo fenomeno. Ricordiamo che Brescia ha raggiunto un risultato importantissimo in termini di percentuale di raccolta differenziata in pochissimi anni, dal 38% siamo passati al 72%, un risultato ottenuto grazie all'impegno dei cittadini bresciani. Ecco perché il fenomeno dell'abbandono è tanto più odioso per chi invece fa correttamente la raccolta differenziata. Il totale più o meno delle tonnellate di indifferenziato si aggira intorno alle 2000 per ogni anno. Come dicevo c'è l'impegno costante della Polizia Locale, io ricorderei anche quello che è invece la normale modalità di conferimento dei rifiuti. Innanzitutto non è vero che più volte si usa la tessera per aprire il cassonetto e più si paga di tassa rifiuti, questo non è vero. Ci sono 5 isole ecologiche che possono essere utilizzate per il conferimento ad esempio degli ingombranti oppure dei RAE e poi c'è un servizio di ritiro a domicilio con una gratuità annuale fatto da Aprica che ti permette di chiamare e far arrivare a casa il ritiro dei tuoi ingombranti, sono fino a 4 colli se non ricordo male per ogni ritiro. Quest'anno come l'anno scorso il Comando di Polizia Locale ha messo in campo una serie di azioni mirate per contrastare gli abbandoni e gli illeciti abbandoni dei rifiuti in tutta la città. Oltre agli servizi che abbiamo messo in campo sia quest'anno, nel 2020 sia nel 2019, noi ci appoggiamo a una serie di videocamere in sede fissa che sono state montate nel corso del tempo in più punti della città che stanno dando i loro risultati. Teniamo conto che queste fotocamere producono al nostro comando una media di 20.000 circa fotogrammi da visionare all'anno, quindi da visionare uno per uno. Da questo poi partono una serie di accertamenti che riguardano sia gli autoveicoli, con la guida delle persone che abbandonano rifiuti, sia le persone che in alcuni casi siamo riusciti anche a identificare. Questo lavoro viene poi ampliato e completato da servizi in borghese che facciamo ormai da un anno e mezzo, tranne ovviamente il periodo Covid che abbiamo interrotto. Un servizio in borghese che si riferiscono alla mattina, al pomeriggio e alla sera, con una serie di accertamenti sugli esposti che ci pervengono dai cittadini, dalle circoscrizioni, dall'amministrazione comunale, insomma da varie fonti, questa serie di esposti vengono catalogati, vengono inseriti in un circuito di controlli e con questi colleghi in borghese cerchiamo di arginare e di trovare la possibile soluzione a certi problemi legati agli abbandoni proprio. Qual è la difficoltà maggiore nell'andare poi a rintracciare le persone? A rintracciare le persone dal punto di vista fisico non è semplice perché abbiamo bisogno di qualche elemento per poter capire chi sono. Chiaramente si tratta di violazioni amministrative e in alcuni casi di violazioni penali perché siamo andati a colpire anche situazioni in cui sono stati abbandonati etterni, è stato abbandonato materiale pericoloso e quindi soprattutto qui da parte di autocarri, comunque di ditte che hanno sversato sul suolo. In questo caso li abbiamo colpiti da un punto di vista penale e quindi lì ci sono tutte le indagini che stanno procedendo. La maggior parte degli abbandoni sono legati a soggetti che a piedi, purtroppo a piedi, abbandonano e lasciano il sacchettino fuori dal cassonetto. C'è ancora questa tendenza di pensare che più si apre e più si paga come tariffa ma non è così. Questo è un po' quello che sentiamo noi da parte delle lamentari, che sentiamo dalla parte delle persone che vengono individuate e sanzionate. Chi abbandona normalmente la sanzione principale è di 130 euro prevista dal regolamento. Si può arrivare anche a 600 euro se non si è residenti nel comune oppure nell'ambito penale le sanzioni le decide poi il giudice. C'è tutta una procedura molto più complessa. Ci sono delle segnalazioni da parte dei cittadini verso chi abbandona? Sì, sì, assolutamente sì. Abbiamo alcune segnalazioni di cittadini che ci dicono, ci mandano anche i veicoli con i numeri di targa, eccetera. In questo caso noi cerchiamo di fare degli accertamenti più approfonditi perché teoricamente non possiamo intervenire direttamente su una segnalazione di un cittadino, dobbiamo vedere noi come agenti di polizia giudiziaria e comunque di pubblica sicurezza per poter intervenire. Però approfondiamo e cerchiamo di capire, sappiamo chi è il soggetto o i soggetti e chiaramente cerchiamo di prevenire altri abbandoni.